buonasera buonasera a tutti rieccomi con voi anche stasera dopo il grande successo del grande seguito ieri sera eh perché eh l'estate continua a essere abbastanza marcata pesante ricca di estremi e quindi anche stasera eh ho moltissime cose da dirvi quindi vi consiglio di eh seguire tutto il video perché è una serie di slide che vi faranno vedere l'evoluzione che avrà l'onda calda come si andrà verso una sua risoluzione verso la sua fine sebbene non sarà la fine dell'estate perché vi ricordo che siamo ancora a fine luglio mi scuso per la luminosità non perfetta mi sto attrezzando eh ma stasera diciamo io sono itinerante ora mi trovo a Roma dove ha fatto molto caldo dove ci ci sono stati ancora c'erano trentasei gradi ora alle sette e e da qui che trasmetto e e ora vi dettaglierò al meglio per quello che è successo che che sta succedendo e come si divideranno eh diciamo eh gli eventi meteorologici in funzione delle diverse aree d'Italia. Allora vi stavo dicendo eh che mh innanzitutto già c'è stato qualche temporale sulle Alpi ora ve lo mostrerò ma oggi è il caldo ad essere predominante è stato il primo giorno eh in questa sede previsto come il vero ingresso dell'onda calda e così è stato perché ci sono delle temperature ancora molto elevate soprattutto al centro nord dove diffusamente si va sui trentasei trentasette addirittura trentotto gradi in alcune città alle otto di sera. Vi fa vi condivido subito lo schermo per farvi capire di cosa sto parlando ed eccolo qui. Allora questa qui vedete questa è la ehm figura che riporta la le temperature le diciassette e cinquanta sono universe del tempo del meridiano di Greenwich quindi dovete aggiungere due ore sono le otto meno dieci eh per questa immagine. Questa immagine ci dice che alle otto meno dieci c'erano trentotto gradi a Perugia trentaquattro trentacinque a Roma a seconda delle zone trentasette ad Arezzo che ve li sto indicando insieme a voi trentacinque a Firenze trentasei a Ferrara trentacinque a Bologna trentaquattro a Milano e tre trentasei trentacinque nelle altre zone della pianura padana parlo delle otto di sera trentasei anche questo è decimo anno un po' meno al sud sebbene le aree interne della Puglia già stiano iniziando a decollare queste grottaglie eh e qui trentasei anche in Veneto questa è Padova alle otto di sera quindi eh ci siamo questa è l'onda calda che arriva insieme a questo vi faccio vedere anche ecco qua guardate questa è l'immagine del radar di poco fa ecco i temporali le rovesci qualche temporale vedete il ehm i puntini gialli sono i temporali che stanno interessando il Piemonte e che come vi farò vedere domani probabilmente interesserà in maniera più estesa la regione alpine parte anche della pianura padana ma la nota predominante sarà ancora il caldo e allora andiamo subito a condividere la nostra classica eh carta che eh vi mostro ogni volta perché voglio iniziare da questo ma ci sarà moltissimo da dire come vi come vi stavo appunto raccontando e quindi vado abbastanza rapido guardate vedete ecco l'onda calda che arriva si spinge sempre verso di noi dalla dal golfo di Alboran qui tra Spagna e eh Marocco e la massa della calda punterà verso di noi fino almeno a martedì poi ecco qua vedete guardate come il flusso atlantico eh segnalato da questi colori più giallo giallognolo che indicano la valori di giopotenziale più bassi valori di pressione più bassa nella media troposfera come si abbassino quindi come si cammino e ci sono degli impulsi che passano e danno delle un po' di stabilità ma soprattutto temperature più fresche nel periodo che va dal ventisette al trentuno luglio e continua così anche per i primi di agosto con alternanze qui sembra che torni un po' di caldo ma sono previsione molto a lungo termine e le queste previsioni adesso ve le faccio vedere con la mia classica le classiche carte a questa la vediamo dopo prima vi faccio vedere la classica carta a mille e cinquecento metri di quota io qui sto sto prendendo sempre spunto dei link che sono tutti ve lo ricordo sul sito www.meteoscienza.it potete trovare tutto quello che vi mostro giornalmente è sul sito web di meteoscienza eh ma andiamo al concreto questo è il modello europeo questo è per domani eh scusate questo è per oggi questo è per domani vedete ecco qua un lieve cedimento eh un lieve abbassamento delle temperature al nord dovuto al passaggio perturbato di cui vi parlavo ieri che potrà generare temporali eh anche di una certa intensità al nord mentre nel resto d'Italia domina il caldo eccolo qui questa è invece per eh sabato sabato mattia scusate domenica eh nel eh metà giornata un pochino si stempera al nord e queste sono appena uscite questi qua sempre caldo al centro sud e qualcosa vedete vedete come cambia questo è appena uscito un po eh qui di nuovo caldo lunedì e di nuovo martedì ricapitoliamo un attimo lo voglio scusate ma voglio farvi capire bene il caldo di sabato ma con temporali alla sera eh poi domenica il resto un po' più fresco al nord lunedì rimonta calda martedì di nuovo fresco al nord mentre al centro al centro sud permane il caldo quindi come vedete due passaggi perturbati almeno al nord anche durante l'onda calda che caratterizzeranno eh diciamo la fase centrale dell'onda calda con eh temporali che potranno essere anche di forte intensità eh soprattutto nelle nelle settore alpine parte della pianura padana poi questa è poi ecco qua rinfresca un pochino dopo il passaggio del secondo impulso martedì rinfresca in parte ed ecco qui che eh nella giornata di giovedì eh abbiamo in sostanza delle temperature leggermente più basse e le e il caldo viene relegato al sud poi qui sembra rimontare ma comunque eh questo è ancora da capire diciamo che a partire dal ventisette ventotto luglio qualcosa cambia e va e soprattutto al centro nord le temperature andranno a a rinfrescare parzialmente. Vi interrompo la condivisione come vi dicevo ehm ci sono molte cose da dire perché vi farò vedere come l'assetto cambi da ora intorno al ventisette come da una vera e propria ondata di caldo africano si passi comunque a un flusso atlantico che entra in maniera più eh diretta nel Mediterraneo senza portare qualcuno mi ha chiesto non vedo grandi piogge non vi aspettate le grandi piogge autunnali ma porta un ricambio atmosferico eh porta un abbassamento delle temperature con qualche rovescio che forse arriva alle regioni centrali e molti temporali soprattutto al nord. Adesso vi mostrerò tutti i miei slide così con calma cercheremo di capire cosa sia accadendo. Allora questo qui eh guardiamo prima ecco questo è il primo slide. Questa è la situazione domenica sera. Guardate a fondo perturbato in Europa ma a ovest tale da buttarci addosso praticamente l'anticiclo africano. Queste eh come ho detto è domenica proprio nel centro dell'onda calda quindi da venerdì a martedì questa sarà l'assetto predominante con due passaggi temporaleschi però al nord ripeto uno sabato sera e un altro tra lunedì e martedì sera. Eh poi poi che succede? Ecco qui. Poi mercoledì ventisette entra più francamente aria più fresca dall'Atlantico si abbassa la saccatura si sposta anche verso est l'africano come vedete l'anticicone è più relegato a sud la l'anticicone delle Azzorre che vede questa A grande qui a sinistra diventa più forte avanza verso est sebbene non completamente come molti sperano la grande le famose estate azzorriane ma comunque consente l'arrivo di aria più fresca da dall'Atlantico e questo è il primo cambiamento. Quanto durerà? Non potrà durare tutta l'estate. Siamo ancora a fine luglio. Ripeto probabilmente tornerà il caldo ma intanto gli ultimi giorni di luglio ci consentiranno una pausa alla grande calura che adesso vi vado a descrivere nel dettaglio. Ecco qui allora questo è sabato domani e questi sono i valori c'è poco da fare lungo la penisola centro sud adesso l'onda calda che oggi era con il coro tra Emilia e Romagna e regioni centrali eh resta anche su queste regioni ma si sposta anche verso sud quindi domani dovrebbero aumentare le temperature anche al sud e questo range che vedete trentacinque caranta gradi nelle aree interne lontano dal mare in zone pianeggianti è quello che ci tocca avere che c'è già c'è stato oggi vi ho fatto vedere quaranta gradi a Orte trentanove a Perugia trentotto a Firenze e questi sono i valori che erano previsti e questi sono stati ma al nord ci sarà un passaggio temporalesco eh in diciamo nel nel pomeriggio sera dovrebbe esserci un passaggio temporalesco le temperature un pochino diminuiscono come vedete e eh ci potrebbe essere un po' di refrigerio attenzione comunque fenomeni anche di forte intensità a sulle Alpi ma soprattutto in sconfinamento tra Piemonte e Lombardia eh dove potrebbero transitare anche dei temporali eh nella prima serata anche forti localmente forti poi che succede domenica ritorna il caldo ovunque anche al nord le temperature restano elevatissime ondata di caldo impienazione forse qualche temporale che si sposta al nord est in che abbandona gradualmente la le regioni italiane ma che potrebbe persistere al pomeriggio anche al nord est e questo e il resto domina il caldo poi eh lunedì questo è lunedì vedete la notte tra lunedì e martedì perché questa è l'emissione zero zero eh di mezzanotte ma comunque lunedì sera e eh vale anche per martedì sostanzialmente al pomeriggio sera stante l'arrivo di aria più fresca da ovest temporali nuovamente che potrebbero questa volta anche interessare eh settori più meridionali della piumura padana quindi delle piogge dei temporali anche di forte intensità soprattutto al pomeriggio sera mentre nel resto d'Italia domina il caldo che è questa che inizia a arroccarsi più a sud eh come vi ho detto altre volte tutto il core dell'onda calda che ripeto ora non è al sud è sul al centro nord come avete visto ben visto gradualmente si sposta al sud senso che senza che al centro ovviamente e gran parte del nord eh arrivi il fresco questo purtroppo non è possibile lo stato attuale e questo è martedì mercoledì scusa sì martedì guardate si abbassano più decisamente le temperature al nord e eh continua la possibilità di temporale al pomeriggio e in sconfinamento forse qualche altro temporale anche al centro questo martedì e poi quella la scritta è venuta un po' grande spera la tolgo subito ecco qua questo è mercoledì a ancora più fresco se vogliamo inizia a ad arrivare quella che è l'influsso atlantico che vi ho fatto vedere prima e che inizia a fornire un po' di refrigerio al soprattutto al centro nord e soprattutto al nord dove le temperature tornano su valori più consoni a quella che è eh la stagione estiva classica così come l'abbiamo intesa sempre e quindi eh diciamo il ventisette ventotto potrebbe essere quella che ehm diciamo possiamo intendere eh la pausa che ci riporta un'estate più normale soprattutto al centro nord mentre al sud ancora eh non si vede una via d'uscita ripeto molti mi diranno ma sei sicuro eh al sud questo è quello che si vede attualmente non si vede una via d'uscita eh decisa al caldo eh comunque vi riassumo questa è l'immagine che abbiamo mostrato ieri che può essere valida anche oggi queste sono le precipitazioni cumulate che il modello americano prevede fino alla fine di luglio quindi eh cumulate vuol dire che nelle varie passate temporalesche generano questi accumuli e come vedete tutto il nord prima o dopo riceverà un po' di pioggia soprattutto i settori alpini ma più nelle varie passate temporalesche che vi ho mostrato riceverà della pioggia e qui molto più spazi rovesci eh che comunque potrebbero raggiungere il centro soprattutto tra il ventisei ventisette e ventotto poca cosa purtroppo al sud infine vi faccio vedere una delle mie carte quella che ho alle spalle questa è la previsione di stamattina del modello americano per i eh la prima settimana di agosto e mostra una goccia fredda che arriva e rompe più decisamente quella che è l'egemonia del caldo africano se così accadesse anche questa ancora una previsione lontana allora sì che potremmo parlare veramente di fresco che arriva da nord addirittura quindi questo sarebbe il vero fresco i temporali diffusi su tutte le regioni e non solo al nord quindi eh vi vi ho riassunto quello che accade e vi confermo tutto quello che avevo detto ecco la carta che avevo messato prima in sostanza abbiamo l'onda calda che arriva sta interessando tutte le regioni ci sarà il classico assetto da avvezione calda africana ovvero caldo su tutta Italia compreso il nord ma il nord viene lambito a intermittenza da impulsi perturbati atlantici ce ne saranno quindi uno sabato un altro tra lunedì martedì diciamo che a partire da lunedì sera il nord fino a giovedì potrà vedere frequenti temporali eh pomeridiani serali su tutto il settore alpino in sconfinamento localmente eh soprattutto intorno martedì eh sulla pianura padana potrebbe che potrebbero interessare più si va al nord più saranno frequenti ma comunque potrebbe interessare gran parte delle regioni del nord anche con fenomeni più violenti questa è la differenza con le altre regioni al centro potrebbe arrivare qualcosa dopo mercoledì e giovedì qualche rovescio sui settori eh eh appenninici con diminuzione delle temperature su tutto il centro nord il sud vedrà anche una diminuzione delle temperature non rispetto a ora perché ora sono più fresche rispetto al nord e poi lo so gli amici del sud mi chiedono come ora è fresco sì perché nei prossimi giorni le temperature al sud aumenteranno a di quattro cinque gradi arriveranno anche lì a quaranta e poi poi a metà settimana potrebbero cedere un po' ma il caldo deve ancora arrivare al sud mentre il centro nord è nel pieno del core caldo che durerà questi quattro cinque giorni con l'eccezione ripeto dei rovesci al nord vi ho detto credo tutto iscrivetevi al canale youtube perché farò sempre per avere l'aggiornamento in tempo reale quando pubblico perché posso pubblicare la sera non si sa quando e poi eh presto visto anche del successo della rubrica si potrà iniziare a fare chat di gruppo live chat dove e per quello dovete essere iscritti altrimenti non vi arriva la notifica in tempo quindi un saluto un abbraccio seguite sempre eh arrivederci e non perdere i prossimi aggiornamenti ciao 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 ciao